Perugia-Pescara è la sfida dei ricordi e anche degli ex. Camplone di cara da una parte, Matteo Politano dall'altra. Per l'attuale tecnico degli Umbri, la sfida del Curi non è certo come le altre. Andrea Camplone a Pescara ci è nato e ci vive. Per alcune settimane è stato anche tecnico dei Biancazzurri, prima di ripensarci per via di una difficile crisi societaria. I tifosi non la presero bene, ma oggi Camplone sta dimostrando di essere un allenatore di valore e di valori. Chissà se un giorno potrà tornare a sedere sulla panchina del suo Pescara. Sabato cercherà però di regalare un dispiacere ai colori biancazzurri. Al suo fianco c'è Giacomo Di Cara, discreto e prezioso collaboratore in un Perugia che dopo un ottimo avvio di campionato ha un po' rallentato. Quella bianco-rossa resta una squadra che può far bene. Il Pescara è avvisato, ma è in trasferta che il Delfino ha fatto vedere le cose migliori. Marco Baroni sa di non poter dover sbagliare. Anche in Umbria l'elenco degli assenti sarà lungo. Lazzari, Appelpirei, Salamon, Bunosa e forse Zampano, oltre lungo De Genti. Possibile la prima panchina per Gaston Brugman. Baroni cambierà ancora formazione e si affiderà ad un attacco che con Maniero, Melchiori e Politano cercherà ancora una volta di lasciare il segno. Nel Lanciano solo problemi di abbondanza in vista dell'anticipo di domani sera al Guido Biondi con la capolista Carpi. Una gara che potrebbe rappresentare una svolta per i rossoneri. Con gli emiliani dell'ex Castori rimaneggiati e senza big del calibro di Porcari e Bakogu, sperare lecito. Importante sarà anche l'apporto dei tifosi rossoneri in una serata che potrebbe essere davvero da incorniciare. Mister D'Aversa riproporrà il solito 4-3-3, ma dovrà sciogliere diversi dubbi in vari reparti, ma questa volta solo per l'imbarazzo della scelta.